Presidente, si sta arrivando all'epilo di questo secondo torneo di padel per i VIP tu dicevi il 18 giorno un po' inclemente perché lunedì però vediamo che c'è tanta gente, il bel tempo, quindi diciamo che il tutto si sta concludendo al meglio Sì appunto, la miscela tennis maggioni, padel San Benedetto si è rivelata ancora una volta vincente è stato il secondo appuntamento dopo quello nato, come abbiamo detto tante volte, per scherzo l'anno scorso secondo appuntamento consolidato e tanta bella gente, tanti giocatori che si divertono e ci mettono un po' di sanagonismo la città di San Benedetto appunto colpisce sempre, il padel, questo sport nuovo appunto ha sempre più successo nel mondo sportivo e anche appunto tra i VIP, i scalciatori, insomma tutto il mondo dello spettacolo ormai gioca a padel e noi non possiamo essere da meno Anche perché ormai il Maggione si sta preparando a quello che sarà il clou dell'estate, quindi questa è una tappa di avvicinamento Sì appunto è l'antipasto, noi siamo adesso ormai focalizzati sull'appuntamento 16-22 luglio del Challenger che rappresenta per noi il Circo Dennis Maggione e per tutta San Benedetto appunto l'appuntamento principe dell'estate sportiva il turismo sportivo, gli avvenimenti sportivi stanno prendendo sempre più importanza per la nostra città noi facciamo la nostra parte e come detto da te Carlo rinnoviamo a tutti l'invito per lo spettacolo stupendo che ci sarà in questi otto giorni appunto di luglio a metà vedremo sfidarsi sui campi in terra rossa del circolo le migliori racchette del mondo, quindi vi aspettiamo Grazie Presidente Grazie a voi Ritroviamo un amico in San Candelanche perché ormai è qui a San Benedetto ma qui in nostre parti vieni tranquillamente, ti ritrovi con gli amici, bel posto, bel mangiare, bel tutto Bellissimo, ci ritroviamo tra ex giocatori, sempre un grande piacere, giochiamo un po' a padel siamo a scena insieme, qui è bellissimo, si apre le famiglie, lungo mare, spettacolare quindi è sempre un grande piacere ritornare a San Benedetto Diciamo che il padel lo sporta dopo il calcio? Ma io sono sportivo veramente a 360 gradi ha fatto la pancia però il padel è divertente perché anche se uno non sa giocare tanto bene comunque si divertiamo Stai, l'importante è tenere il movimento del corpo Sì, quello è sempre Grazie, tanto per non far annoiare i partecipanti non solo i presenti al Maggioni C'è il nuovo DJ Massimo Romano in arte, in arte Massimo Pellapè Massimo, ormai sei di casa pure tu Io sono di casa, è la terza occasione che ci troviamo qui con questo, con la scusa del padel ma il vero motivo è perché loro ci tenevano che io fossi qui il padel è una cosa secondaria che loro si sono inventati per sentire la mia musica anche se sono uno di primo pelo è solamente dal 1972 che io mi diletto con un po' di musichetta tanto per gradire sempre numero uno non ci piace scherzare ragazzi grazie a voi ragazzi Una coppia mitica anche non so se avete giocato insieme o contro l'anno scorso Allora l'arbitro Morganti che salutiamo anche ormai Arbitro Eifu Eifu però ormai sei un personaggio presente in Riviera perché ti diverti, hai casa, hai al mare quindi diciamo stai più qui che in Ascoli E la domanda dov'è? Sul padel Come ti sei comportato? No, quest'anno non ho giocato Solo spettatore? Solo spettatore venire a trovare a parte Marco e Afro come organizzatore e anche gli amici Bari, ex giocatori che avete qui presente Che conosci bene? Qualcosa insieme abbiamo fatto Marco, tu che hai fatto quest'anno? Tu lo spettatore? No, io ho giocato in coppia con il grande Masciarelli Ah, che classe Noi siamo una coppia vincente a tavola sicuramente a tavola però ci siamo divertiti grandi risate abbiamo pure vinto una partita però vedo che insomma adesso il padre sta prendendo piede quindi anche al di là del fatto dei VIP però è un qualcosa anche per trovare un po' lo sport un po' per tutti dai, qualsiasi danno o no? Assolutamente è uno sport che unisce veramente tutti i livelli del tennis dal più scarso al tennis al più forte su questo campo sono molto vicini tecnicamente Emilio che ne pensi? Sì, sì, sono d'accordo anche perché lo scorso anno sono riuscito anch'io a tenere una racchetta in mano quindi ha ragione Marco Grazie ragazzi Ciao Ciao Il CT di Biagio a San Benedetto e Trotto ormai è un classico dopo lo scorso anno si è ripetuto quest'anno è un conviviale è un modo per stare insieme stare un po' la giornata al sole all'aria e divertirsi Sì, ormai facciamo parte di San Benedetto è il secondo anno che veniamo comunque è una zona che conosciamo molto bene un evento carino che ci fa riunire tutti quanti e... Ti seguono tutti comunque Sì, è tanta gente a vedere la finale dai, bello complimenti a chi ha organizzato questo evento come l'assessore Pierluigi che è qui dietro e tutti coloro che hanno aiutato a fare a far sì che sia venuto bene perché penso che sia venuto molto bene Grazie Grazie, grazie a voi un saluto a tutti Ciao Gigi Assessore il secondo anno nonostante lunedì festa è riuscitissima perché c'era un po' di titubanzi che lunedì di solito però ho visto che c'è tanta gente la presenza dei campioni ex campioni è sempre costante quindi riuscita anche quest'anno Sì, io direi di sì noi sul giorno sulla giornata chiaramente ci siamo affidati al mister Di Biaggio che è il tre di unione di questa manifestazione insomma quindi grazie a lui siamo arrivati già al secondo anno grazie a lui stiamo crescendo e grazie a tutti quanti all'impegno della società del brigatore del circolo tennis dell'amministrazione e di Di Biaggio anche e soprattutto vorremmo provare a far crescere questa manifestazione a portarla all'appuntamento fisso e un punto di riferimento per l'estate per l'inizio dell'estate sannettese un altro piccolo passo in avanti il torneo è riuscito la gente c'è c'è anche anche la comunicazione di Sky che magari gentilmente ci farà qualche passaggio sul rete di Sky e questo chiaramente non lo disdegniamo diciamo è tutto che ognuno ne fa la forza esatto tutto porta a promuovere oltre che allo sport che è uno sport chiaramente in ascesa e Sammetto in questo diciamo che è la capitale marchigiana abbiamo già cinque cambi pronti all'uso e altri due o tre che sono in procinto di partire quindi diciamo che il padel qui a Tecchito ci facciamo forti per rappresentarci come la città che magari può aspettare questi eventi nelle prossime anni e speriamo che il mister di biaggio non ci abbandoni per noi è fondamentale questo grazie per Luigi grazie a voi